Tra la fine del Medioevo e la prima metà del XVII secolo l'Europa cristiana fu attraversata da un impetuoso vento di riforma, i cui esiti sconvolsero per sempre la sua fisionomia. Era convinzione diffusa che la Chiesa e le sue strutture, così come la dottrina e la pratica religiosa, dovessero essere riformate e anche che il clero andasse moralizzato. Dobbiamo però capire cosa si intendeva esattamente a quei tempi con il termine riforma. Al giorno d'oggi riforma è sinonimo di modernizzazione, riformare significa progredire, andare avanti. Tra il XV e il XVI secolo con il termine riforma si intendeva tutt'altro, era un ritorno all'antica forma. Riformare significava sì migliorare, ma purificando, sfrondando il cristianesimo da tutte quelle incrostazioni che nel corso dei secoli l'avevano modificato e reso quasi irriconoscibile. Era con lo sguardo rivolto al passato e a quell'antica forma di purezza e perfezione che era il cristianesimo delle origini, l'età apostolica che i riformatori chiedevano a gran voce, un rinnovamento, atto a ripristinare l'autentico messaggio di Gesù Cristo nella Chiesa, sul modello appunto della comunità apostolica. È doveroso precisare e ricordare che i punti salienti dalla dottrina protestante erano tutti perfettamente anticipati nel movimento dei lollardi, come vennero chiamati i seguaci di John Wycliffe. Al concilio di Costanza le sue dottrine furono ufficialmente riconosciute come eretiche dai papisti e fonte di ispirazione di un altro grande riformatore, il boemo, Ian Hus. Grazie a tutti. Grazie a tutti.